Lei come giudica l'arrivo del Papa? E' contento? Certo che sei contento, è un evento eccezionale, ma per tante motivi, prima perché viene in un'isola di 5.000 abitanti e poi perché è un evento storico che un Papa per la prima volta che esce dal Vaticano viene in un'isola proprio dove c'è questa migrazione soffarente che succedono queste tragedie sul mare. Intanto al campo di calcio di Lampedusa, dove lunedì mattina alle 10 il Papa celebrerà messa, si lavora. Che cosa stavi facendo nello specifico? Stiamo smontando per discorso di sicurezza. Cioè? Cioè se succede qualche cosa per poter andare via c'era questo muretto che... Stoccolava la via di fuga? La via di fuga. Se lei potesse fare una domanda al Papa che gli chiederebbe? Venerebbe nell'isola quando arriva e di aiutarci perché noi siamo molto disagiati riguardo a tutti gli altri italiani.